Valerio Faccini, siamo pronti? Ma sì, facciamolo anche con i piatti della batteria, ma sì, con la rubrica, la nostra rubrica settimanale, le foto di Valerio. Le foto, sì, esatto. Che mi hai portato questa settimana? Oggi ho portato tre ospiti sempre del festival, della storia del festival Italia e Musica, che cerchiamo di vedere, io non riesco proprio a vedere nulla. Sandro Giacobbe. Giacobbe, sì, esatto. Il mio amico, il mio fratellone, Sandro Giacobbe. È stato presente a noi tantissime volte, ci ha accompagnato in serate meravigliose. È vero, è vero. Questo, lo vedi? Franco Fasano, un altro caro amico. È stato un passaggio importante quando è avvenuto. Autore di tante canzoni di successo, anche quella che abbiamo sentito adesso, cantata dalla nostra Monica Cherubini. Bellissimo. È stata scritta da Franco Fasano, con tanti grandi successi. È la storia del festival, la faremo tantissimo. Questa... Beh, qui è Alessio Piccolino con Marina Occhiena. Ecco, Marina Occhiena. Alessio Piccolo. Alessio. Ti sei visto, eh? Ti ricordi, Alessio? Era più famoso Alessio all'epoca, anche oggi. No, no, Occhiena è stata una grande... È una grande interpete. Una cara amica, Marina Occhiena. Bene, adesso ho portato qualcosa sulla Turchia, i tramonti della Turchia. Un piccolo flash, questo è il fosforo dei Dardanelli, dalla torre... È autentica, è così, eh? Bellissimo. È una meraviglia. È dalla torre dei Genovesi. Questo è il lago del Sale, dacci del Sale. Lì c'era un tramonto meraviglioso, poi ne porterò altri. Ecco, e questo è uno dei paesaggi costanti nella Turchia, nel reportage che ho fatto, che è molto, molto bello. Non perché l'ho fatto io, ma la Turchia è meravigliosa. Grazie, Valerio. Per questo, vedi, ti ho fatto restare qui, perché questo è arrivato dalla Turchia. Porta bene, porta bene. Quindi tutto in tema. Ciao. Grazie, grazie Valerio. Alla prossima settimana con le foto di Valerio.